Danese ha sbloccato il risultato, attenzione rosso, rosso per Kurtic, era stato ammonito, sembra rosso diretto, vediamo adesso, eccolo qui Kurtic che anche si arrabbia, tra l'altro è in dieci addirittura, sarà squalificato dunque per il prossimo turno di Coppa Italia, ricordiamo chi vince questa sfida affronterà il Napoli il 2 gennaio a San Paolo. Vediamo qui Kurtic, Magnanelli, ci saranno 5 minuti di recupero, io ho visto rosso, ma dov'è più? Eh sì, c'è il calcio, lo vediamo qui, c'è proprio il calcio, fallo diretto subito, rosso diretto.